hello guys benvenuti a tutti questo nuovo video oggi siamo tornati qui a miragica ma col nostro amichetto quindi se l'altro giorno non siamo stati in grado di vedere che cosa c'era dentro oggi con il nostro amico dj ai da soli 249 grammi che vuol dire che possiamo volare senza problemi vedremo che cosa c'è all'interno come già avevo fatto vedere nello scorso video qui purtroppo non resta più niente c'è andato tutto a male e tengo un attimo a dire che comunque miragica ha chiuso ufficialmente nel 2018 ma da quando c'è stato l'incendio circa un anno fa la maggior parte delle attrazioni che c'erano sono andate tutte perse quindi ora accendiamo il nostro amichetto vediamo che cosa riusciamo a vedere e niente decolliamo subito già qui come potete vedere è stato rubato tutto il biglietto è andato a male casse ribaltate biglietteria forse aperte ma inutilizzabili la ruggine ovviamente sta mangiando tutto il parco purtroppo sinceramente qui mi viene da piangere perché era un parco spettacolare ma come potete capire il tutto è finito da un giorno all'altro perché qui stanno ancora i prezzi dei biglietti quindi oggi magari con 16 euro saremo potuti entrare qui e invece no e vabbè grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a tutti grazie a tutti a tutti